Presidente Blasioli, oggi confermato alla guida della Commissione Bussi, prende l'eredi del Presidente Legnini, un voto quasi unanime dell'Aula. Intanto voglio ringraziare il Presidente Legnini per il lavoro che ha svolto e noi svolgeremo un lavoro in continuità, non una ripartenza, nella idea di ottimizzare i lavori, di portare subito un risultato. Ringrazio anche i commissari, non solo quelli che mi hanno votato, ma anche quelli che hanno espresso delle belle parole nei miei confronti. Quello che ci caratterizzerà naturalmente è la difesa dell'Abruzzo, è l'unico obiettivo e l'unica bussola che avremo in questa Commissione, sapendo che ci sono dei fatti nuovi. Dalla sospensione di questi lavori, infatti, sono arrivate la sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile, che ha dichiarato Edison, soggetto inquinatore delle aree 2A e 2B, e poi, naturalmente, dalle notizie che abbiamo avuto dal Ministero. Ecco, io ripartirei proprio da questa sentenza, un fatto storico, acclarato, il principio del chi inquina paga deve guidarci nei lavori di questa Commissione, che, naturalmente, si arricchiranno anche delle audizioni di Edison, di Solvay, forse anche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma sicuramente anche del Ministero, che è un invitato d'onore a questa Commissione che non può assolutamente mancare. Colgo l'occasione, però, di dire che nei lavori di controllo, che svolge, naturalmente, una Commissione di inchiesta, potremmo avere anche un lavoro di promozione di una legge, di una legge che servirà al Ministero, non soltanto per bussi, ma per tante altre bonifiche da fare in Italia, quella che consente al Ministero di effettuare la bonifica e poi di rivalersi nei confronti del soggetto inquinatore. Forse potremmo dare questa legge, anche il nome di legge bussi, sicuramente rappresenterà un fatto molto importante nel panorama normativo nazionale. Fatto sta che bussi, gli abruzzesi, i pescaresi, quelli che vivono sul Tirino e sul Pescara, quelli che vivono il nostro mare, non possono più aspettare e devono essere assolutamente tutelati.